Buonasera a tutti e benvenuti. Si avvicina il Santo Natale, si avvicinano le feste, si avvicinano i pranzi, le cene con gli amici, in famiglia, si avvicina, ce lo si augura, una folata di turismo positivo nelle grandi città e quindi alberghi pieni, ristoranti pieni, tutti alla ricerca di prelibatezza, del mangiare bene, dello stare bene insieme, così con esperienze enogastronomiche. Questo anche perché riponiamo nel cibo una grande fiducia per quello che potrebbe essere un sollievo anche alla nostra vita. Abbiamo già l'inquinamento, abbiamo già le problematiche del lavoro, abbiamo già le problematiche sociali, familiari, personali, tantissimi problemi collaterali e quindi ritrovarci davanti ad una tavola con delle buone pietanze da gustare, un buon bicchiere di vino da bere e quanto altro in buona compagnia sicuramente costituisce un momento da custodire preziosamente proprio perché è in quei momenti che ci sentiamo forse in pace con tutti. Purtroppo avvicinandosi questi momenti si avvicinano anche delle nefandezze e parlo di nefandezze quando mi riferisco a sequestri che il nucleo antisofisticazione, i NAS o comunque i carabinieri o comunque la polizia o comunque le forze dell'ordine stanno eseguendo in luoghi dove viene ritrovato del cibo e comunque dei prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione. Sappiamo benissimo che a fronte di questo si ha il sequestro dei locali, inizia un procedimento penale, ci sono delle multe e tutto parebbe essere risolto o comunque vediamo in tutto questo un collegamento ancora lontano con quello che ci troviamo poi a tagliare con il coltello sotto i nostri occhi. In realtà questi cibi sono veramente tanti, ne sono state sequestrate 7 tonnellate in zona romana e vengono sequestrate tonnellate ma stiamo parlando di aragoste, granchi, gamberi, pesce, carni bianche, carni rosse, addirittura in diversi casi beni alimentari scaduti da oltre 7 anni. Al di là di quelli che sono i problemi del cibo perché le cattive condizioni igienico-sanitarie e già non ci siamo, la ruggine, l'umidità, le infiltrazioni e già non ci siamo, lo sterco degli animali, degli uccelli e sempre non ci siamo. Però propinarci dei cibi scaduti da oltre 7 anni vuol dire tentare di ammazzarci tutti, vuol dire compiere un reato vicino a quello che può essere il peggior danno che si possa fare ad una vita umana, quale? Quello di sopprimerla, perché dei beni alimentari scaduti da oltre 7 anni sono veleno, sono pericolo, sono un facile guadagno per coloro che così li fanno girare, li acquistano a 0, li vendono a 0,5, li vendono a 1, li vendono a 2 e in questo modo magari allettano tutti noi che andiamo alla ricerca del menù con il costo, qualità, prezzo più vicino alle nostre esigenze, dove cerchiamo magari anche di spendere poco e di trovarci bene, ma non in questo modo, non con queste modalità, anche perché poi nel periodo natalizio questi sequestri si intensificano dappertutto. Sulle tavole troviamo, ma parliamo anche di cioccolatini, di snack, di conserve, di piccole cose scadute da tantissimo tempo sulle nostre tavole. Le associazioni dei consumatori avvisano, ci informano, ci chiedono di prestare attenzione alle date sulle scatolette, alle informazioni alimentari, ma se poi queste informazioni, queste date sono false, sono state contraffatte, come facciamo ad accorgerci al di là che con il gusto di trovarci di fronte un veleno, perché non è cibo malandato, non è cibo leggermente fuori conservazione, è cibo di sette anni fa surgelato e riportato sulle nostre tavole. I maxi sequestri sono aumentati, ne sono capitati anche prima in Piemonte, a parte gli escrementi animali sul pavimento, ma si cercava di contraffare al tempo anche il pane DOP Altamura delle Puglie, non in Puglia ma in Piemonte, quindi con metodologie scorrette. In Abruzzo erano state sequestrate tre tonnellate di alimenti senza la tracciabilità, senza sapere da dove essi fossero derivati, in Campania, sui salumi, sulle carni stagionate, sulla fumicatura degli insaccati privi di requisiti genici, ma soprattutto sull'impossibilità di capire, di tracciare l'origine di latte, ma di migliaia di confezioni di litri di latte, latte, mozzarella, formaggi, la campania, tutto sano, tutto bello. Impossibile tracciarne la provenienza. In Puglia 10 tonnellate di alimenti, farine, margarina, aromi, sciroppi, caramello, granella di noccioli e ingredienti per dolci. Che cosa possiamo fare? Non lo so proprio, anche perché è impossibile, è impossibile sottrarsi a delitti come questi. Ce ne sono sempre stati, ma probabilmente adesso l'aumento e la voglia del guadagno ha imposto anche di infrangere le regole più elementari sino ad attentare la nostra vita. Cerchiamo di sequestrarne il più possibile. Grazie.